Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 22 novembre, si festeggia Santa Cecilia. Il nome Cecilia deriva dal latino cecus ceco. Santa Cecilia è la patrona dei musicisti e dei cantanti. Dice il proverbio, quando il vino non è più mosto, la castagna è buona arrosto. Sono nati oggi Charles de Gaulle, Scarlett Johnson, Oscar Pistorius. Il 22 novembre 1963 viene assassinato a Dallas il presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Il 22 novembre del 1975 John Carlos viene incoronato re di Spagna a seguito della morte del dittatore Francisco Franco. Il suo operato fu decisivo per approdare all'attuale Costituzione democratica. Infine il 22 novembre 1990 Margaret Thatcher rassegna le dimissioni da primo ministro del Regno Unito. Conosciuta anche come Lady di Ferro, era stata inquilina al numero 10 di Downing Street per oltre 11 anni. George Byron ha detto, chi ha da fare non ha tempo per le lacrime. Arrivederci da Barba Nera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia.